Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video in questo video presento alcune novità che faccio nel canale vedete questa è la prima e cioè l'attivazione di un sistema tramite questo sito affiliato a YouTube Streamlabs per le donazioni sono sempre stato un po' contrario però diciamo che la situazione non è delle migliori dal punto di vista economico per me personalmente ma se volete vi dico anche di YouTube per quanto poco guadagnassi prima vi dico l'ultimo introito quello del mese di marzo è stato attorno ai 25 euro grande cifra naturalmente ci si può andare avanti direte voi no infatti ma giusto almeno per comprare qualche stupidaggine o anche qualcosa di più serio e poi eventualmente farci la recensione invece per la mensilità dal primo al 30 aprile sono stati solo 9 euro quindi una diminuzione in pratica un terzo una diminuzione del 70% di una cifra già irrisoria ovviamente allora a questo punto mi son detto visto che in tanti fanno queste donazioni non è che mi aspetti chissà cosa se già farò 1, 2 euro 5 euro in un mese sarà grasso che cola oltretutto mi da sempre l'idea un po' del pietismo questo dell'elemosinare chi invece volesse mantenere uno stato così elevato aristocratico chiaramente però purtroppo per mantenere uno status aristocratico servono i soldi e poter dire non monetizzo neanche faccio i video o qualsiasi altra cosa quando e come mi pare senza nessun tipo di impegno però capite bene che già con quella cifra non ci viene neanche il pagamento della linea perché la linea sono 29 euro al mese perlomeno la fibra che adesso dovrò togliere adesso entro il 24 maggio metterò una linea la chiamano una fibra più ridotta ma in realtà è una DSL un po' pompata e quindi dovrò mettere quella che comunque per le mie esigenze non facendo videogiochi impegnativi anche perché ho un pc entry level che già era entry level quando lo acquistai al febbraio del 2015 oramai più di due anni due anni e mezzo fa quasi figuratevi già quanto è andato oltre la cosa già un entry level di adesso sarebbe molto superiore invece ho questo vecchio e questo mi tengo d'altronde non si può arrivare dappertutto poi ci sono altri problemi più personali che non riguardano propriamente il canale ma comunque riguardano la mia persona sempre dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista dello studio per chi fosse curioso fosse interessato ho detto più di una volta che stavo per conseguire la laurea specialistica o barra magistrale di storia mi manca la tesi e un piccolo esamino senza neanche la votazione più che un esamino è un'abilitazione di lingua inglese di tre crediti voi fate conto che un esame normale ne ha nove poi ci sono delle variazioni perché un esame un po' più abbondante può averne dodici al massimo può valerne dodici di crediti quelli del mio corso di laurea in genere sono tutti da nove oppure qualcuno un po' più streaming sito ne vale sei e questi hanno tutti una votazione in trentesimi chiaramente poi ci sono queste abilitazioni che ne valgono tre sono poche durante tutto il percorso accademico ma ci sono e uno di questi è appunto un'abilitazione linguistica senza voto solo che voi potete penso immaginare un'abilitazione linguistica cioè non è un un esame che hai un libro lo leggi se hai un po' di testa bene o male te lo ricordi basta comprenderlo anche se fossero due trecento pagine e poi lo ripeti ti fa delle domande e cerchi di rispondere la lingua o la conosci poi la puoi conoscere bene la puoi conoscere male ma comunque la devi conoscere un po' non puoi andare lì così iniziare ad imparare una lingua in età non più adolescenziale oltretutto in pochi mesi senza neanche un supporto perché non esiste un insegnamento che parta dalle basi dall'alfabeto dalle prime forme diciamo grammaticali ci sono i lettorati e li ho frequentati ma vi assicuro che i lettorati sono fatti anche essi perfino a livello di pronuncia non viene fatta perché sono studiati per persone che vengono comunque da un'infarinatura già scolastica e quindi per me è assolutamente inutile frequentare l'ho frequentato un po' mi sono accorto che praticamente era inutile andarci perché non riuscivo neanche a partecipare agli esercizi che venivano proposti esistono dei manuali che ti prendono per mano ma devono partire in italiano perché se non partono neanche in italiano quello che viene scritto non dico che è arabo perché se è una lingua comunque romanzo una lingua cioè se è tedesco è come se fosse arabo poco meno ma anche nel mio caso il francese che oltretutto ci sono tanti falsi quelli che vengono chiamati falsi amici e cioè parole che ti sembrano che abbiano un significato nella nostra lingua che invece ne hanno un altro nella lingua che vai a studiare la cosa diventa molto molto complicata io ho risolto in parte con il corso Assimil che mi ripropongo sempre di ripresentare al pubblico ero arrivato alla decima lezione adesso è quel corso lì l'ho praticamente concluso anche se ci sarebbe la seconda quella che viene chiamata la seconda ondata cioè ripeterlo facendo tutto in francese insomma senza la traduzione in italiano anzi partendo dalla traduzione in italiano e riportandolo in francese che potete capire una cosa più difficile e io ho imparato molto in questi mesi grazie a quel corso lì e farò cercherò di fare questo esame grazie a quel corso lì non per altro è sorto un problema però dal punto di vista burocratico diciamo e cioè io non volevo reiscrivermi per un intero anno con tutti i costi annessi e connessi perché tre soli crediti da prendere con questo mini esame chiamiamolo esame l'abilitazione come volete voi più la tesi di laurea oltretutto una tesi che dato l'argomento non proprio nelle mie corde diciamo così che quindi mi ci vuole un po' non è tanto che mi ci voglia un po' cioè ci vuole per scriverla ma mi ci vuole proprio come stato mentale a mettermi lì a leggere cose a ragionarci sopra a raccogliere documenti a portare tutto a creare tutto un apparato critico ed è quella la cosa più complicata perché un conto è fare anche uno scritto così a braccio senza fonti senza niente butti giù delle righe ti viene anche una cosa lunga ma quando scrivi una tesi devi farla con un apparato critico alle spalle solido e cioè con tutta una serie di fonti che tu vai lì ti ci vuole anche da un punto di vista tecnico per con Word insomma per sistemare tutte le le varie i vari numeretti poi riportarlo sotto con un carattere più piccolo e diverso rispetto al carattere principale che utilizzi per la tesi serve tempo serve che devi andare a vedere quando fai un'affermazione se è supportata da una fonte che sia primaria o secondaria cioè da un autore moderno te li devi andare a leggere materialmente e devi andare a vedere proprio che cosa ha scritto la pagina l'edizione tutte cose che portano via una marea di tempo per magari scrivere una o due righe non è come fare uno scritto su su youtube su un commento o addirittura un video che parli a braccio poi che sia giusto che sia sbagliato poco importa diciamo per non ti deve valutare nessuno alla fine cioè sarà l'intelligenza di chi ti legge o di chi ti chi ti ascolta a valutare se hai detto ho scritto le stupidate o meno ma per una tesi le cose sono molto diverse come è giusto che sia ecco quindi dato tutto questo e non sapendo una data precisa di portare a termine avrei voluto fare solo questo esame pagarlo anche se non è che si possono pagare solo tre crediti bisogna pagarne dodici cioè l'esame massimo poi se non usi gli altri crediti sono fatti tuoi e che costa più di 200 euro solo questo ma io ero disposto a pagarli poi la tesi di Laura mi sarebbe rimasta con calma una volta pronta avrei pagato altri 500 e passa euro perché poi paghi la tassa per la tesi paghi la pergamena sono 70 euro paghi le varie marche da bollo tutte quelle cose ti viene 500-600 euro solo per la tesi non è possibile però neanche questo perché devi comunque rimanere coperto cioè tu devi rimanere comunque iscritto quindi devo pagare dovrei pagare tutto l'anno anche se io non ho usufruito di nulla non ho fatto nessun esame avrei solo questo da 3 crediti e quindi e quindi niente ho un buco vero e proprio una voragine per me di circa 750 euro per reiscrivermi solo per fare questo esame e poi la tesi si vedrà insomma ho tempo fino ad aprile dall'anno prossimo voi direte beh c'è là il tempo sì però non è semplice quindi sto cercando un lavoro estivo qualcuno dirà ma è ora che ti trovi un lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e tutto guardate questo è un discorso molto complesso che comunque riguarda la persona che non necessariamente quello che va bene per uno va bene per un altro premesso che non è non si trova così con uno schiocco di vita soprattutto con un lavoro a tempo indeterminato ammesso che con l'atto sul lavoro cioè il job act si possa ancora definire realmente indeterminato un lavoro in realtà è indeterminato solamente per l'azienda perché che tu figuri sia indeterminato ma l'azienda se vuole ti può licenziare quindi in realtà vabbè è un discorso adesso che non esula perché fa parte del discorso lavoro però non andiamo oltre diciamo solo che una persona a seconda della sua situazione personale delle sue aspirazioni deve prendere delle decisioni ok allora se le decisioni sono semplicemente date dalla tradizione o dalla spinta sociale che ti dice tu devi prendere un lavoro devi trovartelo a tempo indeterminato qualsiasi sia qualsiasi ti offre un lavoro dieci ore al giorno l'imbianchino il muratore quello che è a vita accettalo no? però invece se una persona ragiona fa una valutazione della propria condizione delle proprie necessità le cose possono un po' cambiare come cambiano? innanzitutto bisogna vedere le necessità personali è chiaro che una persona che decida di prendersi una compagna che e la cosa prosegue non si tratta solo poi di fare un regalino una volta all'anno per il compleanno uno per l'anniversario uno per il Natale che voi vedete cominciano ad aumentare perché poi magari ci sono le vacanze vuole andare in vacanza la cosa però può svilupparsi e vuole andare a convivere sono spese gigantesche non parliamo di matrimonio sono spese di migliaia se non decine di migliaia di euro e allora se uno fa questo tipo di decisione prende questo tipo di decisione che è perfettamente legittima io non la contesto nella maniera più assoluta è una decisione che è personale è libera ma come quello che voglio dire è che come valida questa scelta di vita è valida anche la scelta alternativa che queste cose non le fai l'importante è essere coerenti perché se tu fai una scelta di vita con ragazza che poi diventa fidanzata ma non intendo fidanzata così tanto per o come si dice dalle mie parti qualcuno dice moglie per dire che in realtà è una semplice ragazza anche ragazzetti di adolescenti no allora ragazza intendo così la fidanzatina poi fidanzata vera cioè quella che hai fatto la proposta di matrimonio il matrimonio e in questo tragitto ci sono delle spese enormi poi figli spese cioè rendetevi conto delle spese veramente che solo la casa perché poi se non ha la casa lei che comunque sia o lui per carità uno può io non ce l'ho nel mio caso quindi una casa alternativa quindi non dovrei semmai appoggiarmi con tutto quello che poi comporta appoggiarsi e cioè che tu rimani col culo a terra se le cose vanno male ma ci rimani comunque ci rimani comunque perché fai se hai dei figli e compri una casa anche in comune poi sei tu che devi andartene e qualcuno dirà beh torni torni a casa dei genitori eh sì sì e no perché prendete il caso che potrei fare mio perché siamo nella stessa identica situazione il caso di Maurizio lui youtuber Mauri adesso non è che voglia dire i cavoli suoi ma lui li ha detti tante volte su internet quindi non dico nulla di nuovo lui si è ritrovato che i suoi genitori non avevano una casa di proprietà ma un alloggio sociale esattamente come me se lui non avesse avuto la fortuna di avere una mamma che è arrivata in tarda età oltre a 90 anni che l'ha potuto quindi riaccogliere lui quella casa lì l'avrebbe persa lui sarebbe andato veramente sotto i ponti perché la casa l'abitazione con la ex moglie è andata l'ex moglie dopo non so se l'hanno venduta comunque sia persa e questo è capitato a tantissimi uomini e dopo si dice eh ma i femminicidi la gente si suicida ci credo ci credo quindi quando si fanno si prendono queste decisioni non si devono prendere alla leggera ma devono essere molto meditate è vero come mi ha detto uno che se uno aspetta di avere dei figli o di sposarsi quando è pronto non lo farà mai però è anche vero che se lo fai così a cazzo di cane poi ti trovi male è possibile perlomeno che ti trovi male allora ritorniamo al discorso principe di questo canale cioè contenimento del rischio voi direte non campi bene così perché stai sempre a valutare le cose ho capito ma io sono in una situazione che non posso permettermi di non valutare ogni singolo passo perché io non ho un conto non ho un paracadute non ho un conto in banca non ho delle proprietà non ho nulla che mi garantisca se metto un passo fuori dal seminato rischio di precipitare in un abisso ecco allora voi direte beh l'unica è il lavoro sì è il lavoro ok ma torno a ripetere il lavoro può essere una tua aspirazione cioè tu apri qualcosa di tuo che ti piace quindi vai a lavorare per te stesso cresci con la tua azienda oppure hai la fortuna di entrare in un'amministrazione pubblica privata quello che volete ed è un lavoro che vi piace ci state 12 ore al giorno non vi pesa perché vi piace può capitare uno magari fa che ne so lavora in magistratura oppure a me ad esempio mi piacerebbe insegnamento e ricerca o anche fare il bibliotecario mi piacerebbe come vedete non ho ambizioni di fare il presidente della repubblica ambizioni molto modeste però anche queste sono molto difficili da realizzare ecco quindi alla fine della fiera bisogna farsi i conti in tasca non tanto di denaro ma quanto guardare sia davanti a sé che dietro di sé e poi dentro di sé allora nella mia condizione personale che non significa che vada bene per altri ma per me va bene io cerco un'occupazione che sia o a tempo pieno ma a tempo determinato del resto la maggior parte dei lavori oggi sono a tempo determinato no? si dice si dice ma in realtà non è propriamente così sono a tempo determinato fino a che all'azienda gli fa comodo perché all'azienda se gli fa comodo che invece sia a tempo indeterminato non ti licenzia e soprattutto tanto peggio con l'attuale atto sul lavoro il job act non ti licenzia di sua iniziativa che poi potresti grazie all'eventuale licenziamento almeno alla fine del rapporto di lavoro se fosse a tempo determinato accedere a quei paracadute sociali cioè alle disoccupazioni per un paio d'anni eventuale mobilità eccetera eccetera non c'è questo allora per una situazione come la mia che comunque ho ancora un minimo di ambizione a terminare visto che mi manca così poco questa laurea e poi eventualmente accedere ad un dottorato e qualcuno dirà eh ma il dottorato ma il dottorato guardate che c'è gente che lo fa 50 anni non è una cosa è un titolo di studio superiore alla laurea magistrale se è con la borsa prendi 800 euro al mese per tre anni non è una cosa così eccezionale così straordinaria purtroppo per siamo sempre lì per le cose che piacciono a me cioè di area umanistica storica sono pochissimi ci sono molti più dottorati in ingegneria ad esempio in farmacia in medicina lì ce ne sono a bizzeffe purtroppo questi sono i risultati di quelli che vogliono le cose tecniche dobbiamo investire sul tecnico e così l'umanesimo azzerato praticamente solo un minimo è rimasto di quei pochi specialisti e questa è una strategia di lungo periodo di cui voglio parlare un giorno perché è una strategia di messa in campo da veri e propri criminali delinquenti che vogliono un cittadino sostanzialmente apolide cittadino del mondo un senza patria possibilmente senza memoria storica la memoria storica lasciamola ai ricchi a quelli che possono permettersela o una piccola piccolissima elite di specialisti che conoscono il latino conoscono il greco gli altri non serve non serve che conoscano la cultura classica che magari gli fa venire idee strane sulla democrazia sulla repubblica sui grandi ideali e valori dell'antichità greca e romana che disturbano molto questi delinquenti globalisti ed internazionalisti che sono delinquenti ve lo assicuro ed un giorno io mi auguro di vederlo quel giorno pagheranno hanno creato un sacco di danni continuano a farli e ne faranno ancora non so fino a che punto fino a che non verranno fermati ma lasciamo perdere adesso questo io potrei anche chiudere domani con questi video perché alla fine come vedete ho guadagnato 9 euro per tutto il mese di aprile secondo voi vale la pena solo di connessione ne spendo tre volte tanto solo di connessione per non parlare di tutti gli acquisti che uno fa che qualcuno dice eh sono cinesate che costano uno o due sì ho capito però sono piccole cose a parte il fatto che più di quello evidentemente non mi posso permettere io sarei molto felice di poter fare recensioni su cose più costose no? allora almeno per quello io ho deciso di tentare questa strada poi vediamo come va può anche darsi nessuno è obbligato ma io posso almeno dare una opportunità di dare un sostegno a a questo canale perché io non ci voglio pagare le mie barra virgolette stronzate nel senso bollette che non sono stronzate in realtà ma sono cose personali quindi io non ci pagherò le bollette o l'assicurazione o la benzina o o il metano o quello che mi serve per la mia vita o il regalo per qualcuno o qualcuna no io metterò adesso devo vedere bene come come funziona perché non ho capito ho provato a fare un tentativo per mettere un limite un limite cioè un obiettivo ecco chiamiamolo quindi con un limite da 25 euro 25 euro per comprare una piccola ancora adesso adesso metto una cosa così molto semplice per vedere intanto se si riesce a raggiungere e una volta che l'avrò raggiunto mi auguro sicuramente appena lo ordino e mi arriva farò il video ringraziando tutte le persone perché poi qui mi dà la lista che hanno contribuito a fare questo acquisto cioè questa opportunità che io ho avviato in questo momento serve unicamente per il canale non per altro perché per altre cose so che devo provvedere da solo a parte il fatto che tanto alla fine ci metto sempre io del mio quindi su questo non ci piove però per metterci del mio devo comunque trovare un'occupazione e vi ho detto voglio completare concludere questo discorso o il discorso lavoro estivo o comunque a tempo determinato e tempo pieno oppure che per me sarebbe la cosa migliore se trovassi una cosa del genere a tempo anche indeterminato quindi che mi dia mi desse una continuità un reddito continuativo visto che adesso poi in pratica non lavoro più neanche quel lavoretto che facevo che avevo sono tre settimane che non mi chiama quindi già era poco prima adesso siamo quasi a zero anche grazie alla trovata di eliminare i buoni lavori voucher dicevo a tempo indeterminato o comunque a lungo termine ma a tempo parziale cioè quattro ore tre ore al giorno quello che è per le mie necessità che vi ho detto non comprendendo e questa è una mia scelta personale che può essere che io non non consiglio agli altri ma per me va bene di non avere una donna con cui fare passi uno dopo l'altro sempre più costosi voi direte porta la felicità ho capito ma ti ci vuole quella giusta innanzitutto ti ci vuole quella che ti piaccia perché non te ne puoi prendere una questo ve lo do come consiglio però ve lo voglio dare soprattutto a quelli più giovani non accettate una solo perché è l'unica che vi ci sta in quel momento o solo perché poi dopo un po' è tanto dite non mi necessità nessun'altra questa è dolce è carina mi vuole carina se fosse carina non vi porreste neanche questo problema diciamo vi vuole bene però se voi cominciate a girarvi la testa e guardare le altre ecco significa che c'è qualcosa che non quadra questo è il mio consiglio però poi ognuno io so che la nazione va avanti anche perché ci sono queste coppie che magari non sono propriamente parliamoci chiaro parliamoci molto chiaro la maggior parte delle coppie non sono quelle che si trova la persona ideale molte sono coppie così un po' arrangiate un po' rimediate perché è quello diciamo il meno peggio una ha trovato il meno peggio e uno ha trovato l'unica una delle poche che gli ci stava ci siamo su questo voi direte no non è vero l'amore guardate un po' di esperienza ce l'ho sul campo e vi assicuro che la maggior parte delle coppie stanno insieme ma in realtà o lui o lei mira ben altro che poi uno finisca per accontentare è un po' come il lavoro e alla fine cambia ben poco la gente si accontenta di quel lavoro anche se magari gli fa schifo che gli viene proprio la nausea neanche alla mattina prima di andarci ma la sera già prima di andare a dormire dice che coglioni non ci posso pensare che devo andare a dormire presto e magari neanche dorme la notte che ha il magone però ci va perché è costretto ma ripeto per una nazione nel suo complesso anche questo porta avanti perché porta avanti la demografia porta avanti l'economia quindi dal punto di vista macroeconomico io vi invito comunque a sposarvi vi invito a prendere casa a mandare avanti la cosiddetta economia del bianco come la chiamava Berzani cioè i elettrodomestici l'economia del mattone mandate avanti l'economia però non pretendiate che tutti pongano in essere la vostra scelta se non sono convinti se non hanno la donna giusta che gli piace e ti deve piacere veramente tanto così come la donna deve piacere l'uomo si intende se non hanno se non è la donna giusta non solo dal punto di vista dell'aspetto estetico che è importante inutile che ci prendiamo per il culo dall'aspetto estetico ma anche della compatibilità caratteriale e tutto il resto e in più ci deve essere poi tu da lì hai anche diciamo l'obbligo morale e l'incentivo di mantenerti anche nel lavoro anche se non ti piace vai avanti perché hai un progetto in comune con quell'altra persona e non puoi dire ah vabbè questo lavoro proprio non lo digerisco tento un'altra strada tanto sono da solo bene o male qualcosa riesco a rimediare per sopravvivere tento un'altra strada non si sa come va a finire magari va a finire che sto disoccupato per anni oppure trovo un lavoro precario trovo dei lavori precari che comunque non sarebbero sufficienti per una famiglia questo non lo puoi dire quindi delle due luna non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca questo deve essere chiaro il mio caso è questo però io ho fatto una scelta ponderata che può essere condivisibile o non condivisibile ma la mia scelta che io non consiglio ad altri che non vuole assolutamente trasformare le donazioni che a me pesa molto chiedere perché vi dico il mio spirito fondamentalmente è contrario però purtroppo avere uno spirito di tipo aristocratico ma non nel senso nobiliare a quello che insomma va in giro con il tappeto rosso se no non mette il piedino il suo dolce delicato piedino a terra non è quello ma è una cosa molto più complessa l'aristocrazia non è non sono i nobili di sangue ma deriva dal termine greco il migliore cioè che si vuole essere migliori rispetto ad una massa che comunque non ha quel tipo di valori a cui invece tu aspiri ad arrivare tramite insomma un ragionamento complesso che per cui bisogna un po' aver studiato alcuni alcune basi delle filosofie antiche che non posso fare adesso tutto un discorso che questo voleva essere solo una questione di presentazione del del canale insomma di questa opportunità che che c'è che viene offerta da questa piattaforma per sostenere un canale di cui i contenuti piacciono ora a prescindere dai discorsi delle recensioni io credo che quando parlo di storia quando faccio alcune riflessioni sulla politica la mia voce si ponga innanzitutto credo di essere nel giusto altrimenti non direi quello che dico ma la mia voce si pone come una voce fuori dal coro perlomeno fuori dal coro dei media del sistema e per questo vale la pena che io continui potrei come ho detto smettere domani però perché dal punto di vista economico io sono in perdita costante se devo fare una recensione ci metto sempre io i soldi in più rispetto a quelli che prendo però nel complesso credo che condividere alcune idee alcune conoscenze a me fa piacere e sia positivo in generale ed è per questo che voglio fino a che potrò continuare e questo è il primo si può donare come vedete qui si mette in euro ecco si mette in euro anche un singolo euro vedete non c'è nessun tipo di problema poi qui a me il nome viene comunque nell'elenco non c'è bisogno di scriverlo se volete mettete il messaggio come vi pare e questi sono dei semplici così dei ghirigori che si possono aggiungere o meno ma non sono importanti e l'altra modalità che ho attivato oggi stesso sul consiglio di un utente un utente donna Priscilla mi sembra che si chiami che la ringrazio perché non sapevo di questa affiliazione che si poteva richiedere con Amazon o Amazon se preferite la pronuncia all'inglese e cioè quando acquisti qualcosa la recensisci ti puoi affiliare al sito chiaramente metti cioè richiedi un un collegamento un indirizzo specifico che poi copie ed incolli sotto la tua descrizione chi vuole fare un acquisto tramite di quel prodotto che viene recensito può cliccare direttamente lì tramite quel collegamento e ne deriva un piccolo introito non so di quanto sarà credo pochi decimi di euro dipende poi dall'entità della spesa che va insomma alla persona che ha recensito che ha pubblicato l'indirizzo medesimo io ne ho fatti diversi quindi magari piano piano andrò ad inserire tutti i vari indirizzi insomma non ho messo cose tipo invi in come sotto forma di assegno o sotto forma di bonifico ho messo che quel poco se ci sarà che guadagnerò tramite quel tipo di affiliazione me lo diano semplicemente come un bonus per ulteriori acquisti perché tanto anche se arrivasse a qualche euro cambia ben poco non varrebbe la pena di spendere poi pure per per ricevere un assegno o un bonifico e comunque sia io quei soldi i soldi che io prendo da qui andrebbero sicuramente andranno sicuramente reinvestiti in vari acquisti che io comunque faccio quindi è questo un sostegno agli acquisti che faccio in pratica è questo che io mi prefiggo non di di camparci ecco con questo tipo di né di di sostituire adesso vi ho detto c'è stato un calo del 70% dell'ultimo mese degli introiti proprio quelli della monetizzazione di youtube e il primo obiettivo che mi pongo è questo non so se riuscirà ad apparire io adesso l'ho messo però non lo so comunque in ogni caso vi terrò aggiornato appena aggiornati se mai riuscirò a raggiungere questa cifra di 25 euro per comprare una piccola ancora da allegare da utilizzare come equipaggiamento della canoa gonfiabile ovviamente la canoa gonfiabile 200 euro più 25 euro di remo più 40 euro di giubbotto di salvataggio più il costume a pantaloni lungo l'ho comprato il calzario altri 10 euro la maglietta anti-uv l'ho comprata sono tutti i soldi voi capite bene quindi la pompa 10 euro quindi insomma i soldi servono io ce li metto anche se non ce li ho quel poco che guadagno per altre vie ce li metto anche se in realtà dovrei tenerli però la vita è una sola quindi 200 euro in più 200 euro in meno alla fine non è che ti risolvano le cose nel frattempo se ci si può divertire o perlomeno aggiungere un po' di serenità perché il concetto di felicità e divertimento è sempre molto aleatorio e momentaneo si può essere felici per alcuni istanti forse qualche minuto al massimo ma ciò che è duraturo è il benessere la serenità e come diceva un noto filosofo greco che vi invito non ve lo dico perché vi invito a cercarlo voi stessi vi incuriosisco è molto semplice comunque diceva che il nostro fine in realtà quello che dobbiamo e possiamo raggiungere non è tanto la felicità ma l'assenza di dolore e quindi già quando fai qualcosa che comunque è piacevole non ti fa pensare magari a cose spiacevoli o comunque alla semplice condizione della vita che passa il tempo e tutto il resto le varie varie problematiche ti dà almeno e quindi pensate a farsi un bel giro in canoa in una giornata estiva insomma credo che ti rilassi ti dà ti dia almeno per quel per quelle ore che sei così così come un'escursione che fai una bella passeggiata ti vedi dei bei panorami ti dà un vero senso di rilassamento rispetto a tutto il resto alla vita quotidiana vabbè video come al solito lunghissimo per chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi fino adesso lo ringrazio chi vorrà farmi così una donazione o acquistare adesso a mano a mano li metterò tutti i collegamenti giusti acquistare i vari prodotti che ho recensito su Amazon lo ringrazierò facendone il nome in video specifici che adesso vedrò a seconda di quando arrivano se ne arriva uno al mese farò quello se ne arrivano più di un tot alla settimana cosa di cui dubito fortemente li farò settimanali oppure alla fine del magari una volta che avrò raggiunto l'obiettivo e quando avrò fatto l'acquisto vi ringrazierò chi ha contribuito a quell'acquisto in questo caso vorrei partire appunto da questo dall'ancora una cosa abbastanza piccola 25 euro credo che siano fattibili un limite un obiettivo raggiungibile senza troppe troppe difficoltà vedremo in quanto tempo e se se non si raggiunge pazienza non è non c'è nessun tipo di problema però c'è questa possibilità ecco tutto allora vi ringrazio e ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao